Denuncia dei sindacati, dei vigili del fuoco, dopo gli incendi che hanno messo ancora una volta dura prova la macchina dei soccorsi. Una situazione, nella maggior parte dei casi, davvero insostenibile anche per i turni di lavoro prolungati e massacranti, ma anche per le temperature in gioco, sia per limitare i risorsi umani a disposizione. I sindacati chiedono che il Governo risponda e dia fattiva concretezza alle tante belle parole spese durante questa emergenza. Incendi. I rappresentanti dei lavoratori chiedono 40.000 unità operative e 5.000 unità tecnico-professionali, rilevando di essere la componente fondamentale del sistema di protezione civile. Ma siamo in pochi. A settembre, dicono i rappresentanti sindacali di categoria, con la ripresa delle attività, il rinnovo del contratto di lavoro sarà lo strumento per ripagare in parte il personale del corpo, degli sforzi fatti. Lo faremo garantendo loro la giusta valorizzazione economica e professionale anche in termini previdenziali, condizione che ci vede in forte ritardo rispetto agli altri corpi dello Stato. Inoltre, proseguono i sindacati, saremo pronti a rilanciare l'avvertenza sulle indispensabili assunzioni, necessità non più rinviabile, scendendo anche in piazza se fosse necessario. Ogni anno gli italiani piangono la perdita di vite umane, del patrimonio faunistico, di quello boschivo senza contare quello legato alla perdita dei sacrifici fatti per una vita. La causa è sempre la stessa, la scarsa attenzione nella previsione e nella prevenzione degli eventi. Per questo, oltre l'assunzione a tempo indeterminato, dicono i sindacati di categoria, servirà a dare concretezza agli investimenti economici stanziati per fronteggiare gli eventi.